Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna ci sono un chilometro di coda verso Firenze e rallentamenti verso Livorno. Code per un incidente tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. In A1 verso Bologna code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. A Firenze per l'avanzamento dei lavori di riqualificazione di Piazza dell'Isolotto sono in vigore di vieti di transito nella piazza da Via dell'Ortensia all'Ungarno dei Pioppi e in Via degli Gustri. Oggi sarà in atto uno sciopero nazionale del trasporto pubblico locale, servizio di tramvia a Firenze non garantito dalle 10 alle 14. Per quanto riguarda gli autobus l'adesione sarà in orari differenti, info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!